benvenuti a riccione benvenuti all'hotel lungomare compassione e tradizione ci prendiamo cura delle vostre vacanze per un soggiorno da dolce vita a riccione siamo nel cuore della perla verde affacciati sull'incantevole e nuovissimo lungomare e circondati da un'oasi di giardini e fontane che portano direttamente al mare e alla nostra spiaggia le palme alla spiaggia privata le palme troverete un luogo unico dove vivere in serenità le vostre giornate di spiaggia sulla sabbia di riccione appena arrivati all'hotel lungomare si percepisce l'ospitalità di questa terra impreziosita da ambienti unici e raffinati ed una grande attenzione ad ogni particolare già dal risveglio sapremo coccolarvi con la nostra prima colazione a buffet ricca di pasticceria fragrante fatta in casa spremute fresche angolo salato e piacevoli attenzione vacanza vuole dire prima di tutto comfort e comodità ed ecco quella di pranzare a due passi dalla spiaggia nel nostro ristorante panoramico al quinto piano sul mare ed è proprio il mare la cornice delle nostre stanze silenziose accoglienti e dotate di una vista favolosa sul mare salire fino all'ultimo piano dell'hotel lungomare è come essere al settimo cielo qui trovate infatti il ristorante lounge settimo piano uno spazio unico e raffinato dove cenare a lume di candela o una location privilegiata per aperitivi brunch briefing aziendali o un cocktail party la cura dei dettagli per i piaceri della tavola all'hotel lungomare di riccione ti porterà ad assaporarli anche in riva al mare sotto le stelle un'esperienza da portare nel cuore la vacanza all'hotel lungomare ha sempre i colori della festa ed è capace di sorprendervi continuamente sarete così i nostri ospiti nella cena romagnola sotto le stelle presso la nostra locanda i girasoli fornirvi tutte le comodità necessarie è la nostra più grande soddisfazione hotel lungomare un soggiorno da dolce vita nel cuore di riccione